E' stato fermato dai carabinieri della stazione di Comiso mentre cedeva una dose di hashish ad un giovane accaduto a Comiso la notte scorsa quando i militari dell'arma erano impegnati in un mirato servizio per il contrasto allo spaccio di stupefacenti. Le manette sono scattate ai polsi di Ali Hamed, tunisino di 27 anni, domiciliato a Comiso, celibe nulla facente ed incensurato. E' stato beccato dai carabinieri nei pressi di Piazza Matrice, mentre era intento a cedere una dose di hashish di un grammo ad uno sconosciuto. A seguito della perquisizione personale, il tunisino è stato trovato in possesso di altri 9 grammi dello stesso stupefacente ed una somo contante di 85 euro, ritenuta probabile provento dell'attività illecita. Il tutto è stato sottoposto sotto sequestro, mentre per il 27enne è scattato l'arresto. Al termine della formalità di rito è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, la disposizione dell'autorità giudiziaria, davanti alla quale dovrà rispondere del reato di spaccio di sostanze stupefacenti. La droga sequestrata è stata inviata presso il laboratorio di sanità pubblica dell'ASP di Ragusa al fine di stabilire l'effetto a composizione. Con l'arresto di ieri sono 34 le persone arrestate da gennaio ad oggi nell'ambito della lotta alla droga a Vittoria, Comiso Cate e Chiaramonte Gulfi.